Sono Padre Giuseppe e sono insieme con le altre tre ragazze del Registration Team. Noi siamo il gruppo che sta raccogliendo le iscrizioni di tutto il mondo per la partecipazione al simposio vincenziano che avremo qui a Roma dal 12 al 15 ottobre di quest'anno. Devo dire che siamo molto contenti di come è andato avanti il nostro lavoro per quanto riguarda le registrazioni. Siamo arrivati ben oltre quelle che erano le nostre aspettative. Ad oggi abbiamo appena fatto le statistiche in tempo reale degli iscritti e siamo arrivati a 8.660 iscritti, di cui 4.900 dall'Italia, tutto il resto dal resto del mondo. E quando dico resto del mondo intendo veramente il resto del mondo, perché come famiglia vincenziana siamo presenti in 150 nazioni dei cinque continenti e oggi possiamo contare quasi 90 nazioni che si sono registrate al simposio. Quindi avremo una partecipazione di 90 nazioni di tutti e cinque i continenti qui a Roma e per noi è una grande soddisfazione. Ancora abbiamo visto che c'è una grande partecipazione anche dei giovani, nonostante sia un tempo poco propizio per i giovani. Ottobre è tempo di università, è tempo di scuola, è tempo lavorativo. E abbiamo invece su questi 8.600 più di 1.000 giovani iscritti al simposio che parteciperanno, anche questi da diverse parti del mondo. Quindi stiamo raccogliendo questo grande successo che sta riscuotendo il simposio in tutta la famiglia vincenziana. Grazie. 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 Grazie.